4-5-1, bello compatto della Juve, lo vedi in queste due belle linee. Guarda Zidane che si diverte a fare la foca sul cambio gioco di Figo, poi va anche a riprendere il pallone. Il piede, il sinistro, per questa è il colpo di spalla e poi da foca di Zinedine Zidane. Ha riso Jugovic perché ha detto ma questo che ha fatto? Ha cominciato a ridere anche Jugovic che...